Amici buonasera e benvenuti al nostro trentesimo appuntamento musicale con le colonne sonore dei film più famosi. Stasera sono in tenuta ginnica quindi vi farò ascoltare un film uscito nel 1981, Chariots of Fire, in Italia momenti di gloria. Il film parla di due partecipanti all'Olimpiadi nel 1924, non c'è tanto da dire su questo film, se ben vi ricordate famosissime sono le immagini iniziali di apertura del film con la musica di Vangelis. Buon ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.